o no, 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 no si è la buona capite, ma allora 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 qui ci dà una volta con i tuoi i suoi casti e i tuoi riconosciosi insieme non vi ricorda la gente che è così rispetto alla natura la natura crea ciò che l'uomo distrugge questo è il problema che ogni tanto si sfugge la natura crea ciò che l'uomo distrugge questo è il pensiero che tutti noi che distrugge in mezzo alle persone sono forti Inizia! Ci dà un bel ragazzi! Non potete da pagare solo quella! Ah! Si va su! Eccolo qua! Giro completo! Grande Ranger! Guarda la RC! Ah agami eh, ragazzi il fantastico... Dissio! Proprio tu haiumenti!" Proprio sui pezzi calciushing. Bisniak, tinhan! Quando io conosciuto le端ule dunque? Sze, davanti amore e fuori... Ah, tai contextsimal! Dici... Una grande Ok, va bene così Si torna la base ragazzi Oh, no, 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 no Questo è il pensiero che di notte mi strugge. Il pensiero che di notte mi strugge. Il pensiero che di notte mi strugge.